Lascia un mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Attimi di forte commozione a Michelle Impossible. La padrona di casa si è ritrovata nel bel mezzo di un teatrino dolcissimo tra lei, Aurora e suo padre Eros Ramazzotti. Chiaramente tra i due non c'è più amore, ma sicuramente un gran bene e molto rispetto. I due infatti sono sicuramente rimasti molto amici dopo il divorzio, soprattutto per Aurora. Ma cosa è successo durante la puntata di Michelle Impossible? Dobbiamo prima fare una premessa. Come è assai noto, la figlia di Eros e Michelle è incinta. Eros e Michelle stanno per diventare nonni e poco prima che sul palco arrivasse proprio la giovane, Eros ha iniziato a cantare la sua canzone, Aurora. Chiaramente Michelle, a quel punto, è scoppiata a piangere. Poco dopo Eros si è messo seduto al fianco della figlia e lei simpaticissima ha detto, Ridendo ti dico una cosa che non ti ho mai detto, aspetto un bimbo. Chiaramente Eros lo sapeva bene e si è fatto una gran risata. Poi, serio, dice, sei stupenda, sei una roccia, sei una forza della natura e io sono davvero orgoglioso di te. A quel punto Michelle ricomincia ad emozionarsi, giustamente. Aurora ricomincia a parlare. Non dimenticherò mai la tua reazione di quest'estate. Ti ho preso una maglietta con scritto Nonno Loading e sei svenuto sul letto quando hai saputo della gravidanza. Era più difficile arrivare. Chi viene dalla periferia sa come funziona, o emergi o ti devasti, ha raccontato poco dopo il cantante. La figlia ha quindi chiesto, non volevi che entrassi nel mondo della musica, perché? Temevo il giudizio della gente, se ti mettevi a cantare avrebbero fatto subito il paragone con me, ha detto Eros. A quel punto è arrivata Michelle e i tre si sono abbracciati come se non si vedessero da anni. Che bella famiglia, ha chiosato il cantautore. Un momento che è piaciuto molto ai telespettatori, che vorrebbero rivedere Michelle ed Eros di nuovo insieme. Un sogno che li insegue da tantissimi anni.